Ciao a tutti, oggi vi volevo presentare questa livella laser, una livella laser sicuramente non professionale, una livella laser pensata per l'uso hobbistico casalingo, poche funzionalità ma più che sufficienti per questo tipo di utilizzo e ci può veramente facilitare alcuni lavori in una maniera importante. La livella è totalmente realizzata in materiale plastico con degli inserti gommati specialmente degli spigoli che ne consentono una resistenza alla caduta fino a 1,20 m di altezza più o meno. Nella parte frontale abbiamo il vetro dove ha inserito il laggio laser, nella parte superiore abbiamo questo unico tastino che fa anche da led che ci dirà alcune informazioni che poi vi dico. Nella parte laterale abbiamo questa levetta di accensione, nella parte inferiore abbiamo l'alloggiamento delle due batterie AA che sono fornite in dotazione e il filetto femmina da un quarto che è il classico, lo standard di tutti i cavaletti delle macchine fotografiche per intenderci. Quindi c'è un funzionamento molto semplice, basta posizionare la nostra livella laser, spostare l'interruttore in modalità automatica e posizionare in piano. Come facciamo a sapere quando siamo posizionati correttamente e in piano? E' molto semplice ce lo dice la livella. Innanzitutto il raggio laser rimane fisso e questo tastino con led diventa di colore verde. Se abbiamo il raggio laser lampeggiante il tasticolo verde vuol dire che non siamo posizionati in maniera corretta e il nostro raggio laser non è affidabile. Questo avviene quando la nostra livella ha un'inclinazione di oltre 4 gradi. Vi faccio vedere, vedete? Fino a un range di 4 gradi riesce ad autolivellarsi che siano per così, così o anche così. Quindi quando noi abbiamo il led verde e il raggio laser fisso siamo sicuri che ci dà la certezza di attendibilità. Non per questo non possiamo tirare delle linee diagonali. Per fare questo possiamo mettere la livella in modalità di blocco e tenere premuto il pulsantino per oltre 3 secondi. La livella si accenderà ma con questo ci permetterà, adesso vi faccio vedere sul nostro muro, di posizionare il raggio laser come vogliamo. Se vogliamo tirare delle linee diagonali ma dritte lo possiamo fare. Prendiamo sul nostro livello. Vi ho detto più o meno tutto. A mio avviso è ottima per l'uso casalingo e la consiglio vivamente anche per un prezzo abbastanza contenuto. Ciao a tutti!